Non c'è alcun via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura. Una doccia fredda che arriva proprio con la precisazione dello stesso CTS, per chi aveva sperato, in una riapertura serale dei ristoranti in zona gialla dal 5 marzo. E invece, spiegano gli esperti, una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l'efficacia nella mitigazione del rischio. Nel verbale della riunione del CTS del 26 gennaio 2021, continuano gli scienziati, vi sono indicate anzi alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive, adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso. Gli esperti ricordano che la situazione epidemiologica attuale, pur mostrando una lieve diminuzione dell'incidenza nel paese, evidenzia ancora un rischio moderato alto, con un elevato impatto sui servizi assistenziali nella maggior parte delle regioni e province autonome, e sottolineano come il settore della ristorazione presenta alcune criticità connesse all'ovvio mancato uso delle mascherine, con potenziale aumento del rischio in presenza di soggetti asintomatici. In più, secondo il CTS, vi sono anche altri due fattori da considerare prima di allentare le misure, ovvero la ripresa delle scuole in presenza, per la quale è necessario attendere almeno 14 giorni per valutarne l'impatto, e l'andamento in Europa della pandemia, che rimane a livelli di alta circolazione, registrando tra l'altro una possibile maggiore trasmissibilità dovuta alle varianti del virus. Gli esperti quindi rispondono così alla richiesta avanzata dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla riapertura di pubblici esercizi, passando la decisione nelle mani del decisore politico. Un duro colpo per il ristoratore pesaresi Umberto Carriera, che aveva esultato in un video postato sul suo profilo Facebook una volta presa la notizia, poi smentita. Gioco delle parti, CTS versus governo, scrive Carriera in un post su Facebook, è proprio questo, scaricare la responsabilità delle scelte all'altro, ma un fatto è certo, continua il ristoratore. Il governo Draghi ha come primo punto in agenda la riapertura dei ristoranti a cena in zona gialla e da pranzo in zona arancione, con l'abolizione del coprifuoco.